E oggi è un altro giorno, e oggi di passaggio, dunque, cosa troviamo? Troviamo un'altra chiesa ortodossa, questa qui è una chiesa anche importante qua, quindi qui c'è proprio tutta la zona, questa qui la chiesa, che vi facciamo dopo vedere come è dentro, poi praticamente questa scuola, scuola di chiesa, insomma, eccoci qua, e adesso andiamo a vedere dentro, cucù! E oggi passiamo per entrare nella chiesa, fai vedere la cupola del favore, tutta la fasciata, che è bellissima, è bellissima, amore, e adesso? E adesso andiamo a vedere dentro. Eccoci qua, siamo dentro la chiesa e facciamo piano piano questo video, facciamo vedere, fai vedere! Come vedete, come vedete, ho tantissimo, utilizzo tantissimo oro, sovite, 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 sovite. Quello anno è quello! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!